Salve e bentornati alla Chiesa di Scientology. Oggi affronteremo uno dei problemi principali nell'ambito dell'istruzione, il problema dello studio. Già nei primi anni 50 Erron Abbard individuò i fallimenti del sistema educativo. In risposta a questo problema iniziò a sviluppare una vera tecnologia d'apprendimento per acquisire la padronanza di qualsiasi argomento. Queste scoperte educative sono conosciute collettivamente come tecnologia di studio. Forniscono agli studenti di ogni età e di ogni livello di istruzione l'ingrediente mancante della maggior parte dello studio moderno, cioè la capacità di imparare ad imparare. Erron Abbard escrisse le prospettive possibili nell'occuparsi con successo dell'istruzione, mettendo l'accento sul fatto che lo scopo di ogni società quando affronta il problema dell'istruzione è di aumentare la capacità, lo spirito di iniziativa, il livello culturale e insieme a tutte queste cose il proprio grado di sopravvivenza. Negli anni 60 Erron Abbard pubblicò una serie di conferenze sulla sua ricerca nel vasto soggetto di come studiare e imparare. L'applicazione delle sue scoperte risultò così universale che le informazioni vennero presto messe in uso nell'organizzazione di Scientology. Furono applicate dagli insegnanti anche nelle scuole laiche, con miglioramenti tangibili nella capacità di apprendimento degli studenti. Nel 1971 un insegnante fondò la prima struttura educativa specializzata nell'uso della tecnologia di studio. Per più di tre decenni l'introduzione della tecnologia di studio nelle scuole e nelle università è avvenuta principalmente a livello popolare grazie agli sforzi di insegnanti tutti riuniti sotto la bandiera di Apply Scholastics. Ad oggi Apply Scholastics ha destra insegnanti, amministratori di scuole pubbliche e private, oltre a trainer aziendali, tutor e consulenti educativi provenienti da tutto il mondo. La necessità di studiare non finisce con l'istruzione formale. Qualsiasi lavoratore, dall'operaio al dirigente, deve essere in grado di assimilare le informazioni importanti per il proprio lavoro. Farle proprie e quindi metterle in pratica. Il successo nella vita dipende da ciò. Apply Scholastics e la tecnologia di studio stanno rendendo possibile a chiunque acquisire queste capacità. Questa tecnologia insegna le basi dell'apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio. Ma che cos'è la tecnologia di studio? Nella sua ricerca sul soggetto Erronaba scoprì che la principale incapacità dello studente di assimilare e usare efficacemente i dati era causata dall'assenza di una tecnologia relativa al come studiare. Questa ricerca portò alla scoperta di quelle che sono note come le tre barriere allo studio. La tecnologia di studio o tech di studio come viene familiarmente chiamata include i precisi metodi per superare queste barriere. Le principali barriere allo studio sono la mancanza di massa o dell'oggetto di ciò che si sta studiando. Se qualcuno sta cercando di capire il funzionamento di un'auto o di un computer o di un sistema solare la pagina stampata o le parole scritte non sono il sostituto dell'oggetto stesso. La mancanza dell'oggetto associato alla parola può impedire tutta la comprensione. Se la massa di un oggetto è assente lo studente si sentirà schiacciato piegato con una specie di capogiro come morto o annoiato. La seconda barriera è il gradiente troppo ripido. Cosa cosa si intende con gradiente troppo ripido? Quando lo studente non ha acquisito la padronanza di abilità precedenti prima di procedere a gradini più complicati o dettagliati può avvertire una specie di confusione o sensazione di capogiro. Si fa spesso riferimento a questa barriera allo studio come ad abilità di base mancanti o abilità di base insufficienti. La terza e più importante barriera è la parola mal compresa. Una parola mal compresa è una parola che non si è capita o che è stata capita male. Dopo una parola non compresa o compresa male si ha una netta sensazione di vuoto mentale. Può provocare nello studente una sensazione di vuoto o disfinimento, assenza e dopodiché può seguire una specie di nervosismo isterico. La tecnologia di studio spiega in che modo si deve studiare per capire una materia e metterla in pratica e offre i principi fondamentali che vi permetteranno di studiare con più efficacia. Con questa tecnologia può imparare qualsiasi soggetto e così pure chiunque altro lo può fare. Ad oggi i contributi di Aronabara e Apply Scholastics nei campi dell'alfabetismo e dell'apprendimento hanno cambiato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Sostenuta dalla chiesa di Scientology e dai suoi fedeli, Apply Scholastics è in prima linea per sconfiggere l'analfabetismo ed elevare il livello di istruzione. Il corso sulla tecnologia di studio è anche disponibile online. È disponibile l'addestramento anche qui nella nostra sede. Sono Tiziana Bonazza e questa è la Chiesa di Scientology di Padova.